Ci sono sempre tante sfide da portare avanti e certamente a volte anche capire come poter vendere il nostro prodotto anche in altre realtà con culture diverse a volte impone degli impegni abbastanza importanti e capire anche come le altre culture si pongono. E una delle sfide più importanti è stata inserirsi in un mercato dei paesi arabi nel momento in cui l'azienda quindi non aveva più diciamo delle figure maschili che potevano proporsi ma l'imprenditore è un imprenditore donna e in quei mercati bisogna veramente far valere diciamo le proprie competenze per far sì di essere riconosciuti e quella è stata una sfida importante che siamo riusciti a portare avanti così come lo sviluppo e diciamo anche di organizzazioni diciamo diverse all'interno della propria impresa che possono diciamo portare avanti il progetto imprenditoriale non soltanto per seguendo il genere nel senso quel ruolo di solito veniva fatto esclusivamente da una figura maschile oggi invece abbiamo diverse figure apicali anche all'interno della nostra azienda che sono ricoperte da figure femminile proprio perché ne abbiamo visto l'importanza e le competenze che avevano quindi abbiamo seguito una logica di competenza e non di genere per ampliare e sviluppare che ha portato quindi il vantaggio anche nella diciamo una snellezza anche nello sviluppo di nuovi progetti anche di carattere più tecnico